Workout da Miami appena finito in questo box pazzesco Siamo a CrossFit Downtown Devo dire che è un posto che ti fa veramente venire voglia di allenarti Prima di scoprire quanto è il vostro score, come è andato il vostro workout Potete segui sul mio canale YouTube, condividete il più possibile Perché più siamo, più ci divertiamo Loro si stanno allenando con il loro coach nel frattempo Io oramai sono diventato il vostro coach Quindi allenatemi insieme a me, condividete questi video il più possibile E ora andiamo immediatamente a vedere di cosa stiamo parlando Quindi qual è il world di oggi Ciao! 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 Prendetevi vero più ! diciamo che è data bene naturalmente i primi tre round va sempre meglio poi dopo il quarto si comincia sentire un po la stanchezza e la pesantezza sulle gambe però molto divertente questo workout da miami è finito ve lo lascio qui tutto se l'avete fatto scrivetemi nei commenti quanti giri dell'amrap avete fatto quindi sommateli tutti insieme io ho fatto forse due mesi sempre due comunque perché i mezzi non si contano e quindi alla fine è sempre due non è andata male scrivetemi il vostro scor sotto e continuate a seguirmi su youtube condividete il video perché più siamo più ci alleniamo insieme meglio è raga grazie per essere allenati insieme a me